Ottobre 1999. Una giovane donna catanese decide di intraprendere un viaggio, uno di quelli che sono da sogno. E' un po' perché lei è da una parte uno spirito libero, ma dall'altra parte vuole fuggire per qualche tempo da una situazione, da una quotidianità che è in quel momento stretta e non felice per lei. La sua mamma decide di accompagnarla e quindi il viaggio diventa qualcos'altro. Il viaggio deve andare bene, anche perché potrebbe essere uno di quei viaggi che rimangono nella storia, rimangono nella memoria. Per cui la giovane fa di tutto affinché questo viaggio vada bene. E così è fino a un certo punto quando un incidente stradale stravolge tutto e porta la situazione nel baratro. Loro sono a Cancun, nel Yucatan messicano, e questa cosa naturalmente porta tanto sconforto, ma comunque porta anche a una rinascita, a una determinazione perché le cose tornino ad andare bene. Dopo 25 anni Donatella Turillo, è il nome della nostra giovane, che oggi è una poliedrica professionista, decide di raccontare quella storia. Lo fa proprio per dare un messaggio, anche un messaggio, ed effettivamente ne nasce un libro che è un libro pieno di profondità, molto coinvolgente. Potrebbe essere una sceneggiatura per uno di quei film d'azione. Oggi noi abbiamo l'onore e il piacere di avere Donatella in studio con noi, ma di tutto questo e anche altro ne parleremo dopo la sigla. Amici di Gloves, buonasera e bentornati ancora un'altra volta. Dalla parte del libro, la vostra fedele vetrina di tante novità culturali, ma soprattutto tante passioni letterarie. Oggi parliamo appunto con Donatella Turillo, una collega giornalista, una fotografa, una scrittrice, anche una direttrice tecnica di agenzie di viaggi, una persona veramente poliedrica. È alla sua prima esperienza di scrittura di un libro, di un romanzo, ma è qualcosa che secondo me viene proprio dal cuore. E infatti lo chiederemo a lei che appunto oggi presentiamo. Ciao Donatella. Intanto grazie per avermi invitata e ciao a tutti. Sono molto felice di essere qui, di parlare con voi. Grazie per la presentazione. Sembra molto imbarazzante per me. Noi ci conosciamo da tanti anni per cui sappiamo bene dove colpire. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è questa. Questa è una storia che è realmente accaduta, che tu hai raccontato con molta dovizia di particolari e soprattutto è anche, si vede che è sentita molto. Ecco, ma come mai dopo 25 anni da quello che è accaduto? Cioè una giovane donna, una giovane ragazza, oggi una giovane donna, che racconta un episodio che sicuramente gli ha cambiato la vita, ma che comunque, come mai dopo 25 anni? Allora, in realtà, parte del libro iniziai a scriverlo proprio in Messico. L'esigenza di scrivere il testo del libro, in maniera proprio matematica, da diario, nacque da un'esposizione che volevo fare all'ambasciata o comunque agli avvocati, proprio per rendere chiaro quanto mi stesse accadendo. Cosa che poi non fu fatta, però mi rimase questo manoscritto dietro, lo misi in valigia, mi segui in Italia e lo conservai in un cassetto. Quindi era un promemoria per qualcosa che poteva servirti ad altro? Sì, per dire le vie legali o comunque per cercare di capire anche in maniera burocratica come potermi muovere una volta salva. In realtà si è scritto da solo perché nel momento esatto in cui lo scrivevo raccontavo degli episodi che mi accadevano di volta in volta. Quindi quando io mi sono ritrovata a rileggerlo in Italia, a distanza anche di 25 anni, un po' perché non amavo rileggerlo perché mi scuoteva, un po' perché è un tipo di scrittura legata, come dico sempre, a me da ragazza, comunque mi riaprivano dei cassetti, cioè le pagine mi riaprivano dei cassetti con episodi che avevo dimenticato e con emozioni che avevo provato che non sono state archiviate. In realtà poi sai che archiviamo ben poco e sempre messo lì, no? No, ma infatti ecco capisco a questo punto perché c'è da una parte traspare questo coinvolgimento, questa ecco vediamo la copertina, questo coinvolgimento e questa dovizia di particolari perché sono stati scritti proprio in quel momento, quindi nel momento in cui tu lo hai ripreso dopo penso tanti anni hai veramente riprovato quelle emozioni. Sì, ho riprovato quelle emozioni e ho analizzato le emozioni, provate. Nel trascriverlo mi domandavo ma oggi io avrei fatto così, oggi avrei pensato questo, la Donatella di oggi come si sarebbe comportata? Quindi Donatella versus Donatella. In realtà quanto mi è accaduto è stata la base del mio futuro perché poi da questa esperienza sicuramente ho scoperto, ho riscoperto una forza che avevo in me tale da permettermi di affrontare tante difficoltà come ognuno di noi, difficoltà familiari, difficoltà lavorative, difficoltà interpersonali, di rapporti, di relazioni e ho sempre detto a me stessa se sei riuscita ad uscirne salva da quel momento perché non poter affrontare questa realtà è una problematica magari professionale che si può superare, no? No, diciamo che appunto, devo dirti la verità, io quando tu sai che ho presentato tantissimi libri però ogni tanto mi piace più andare a approfondire il perché o le sensazioni, le emozioni che si sono provate in certi momenti che andare a parlare proprio del libro in sé, nel senso che il libro diventa uno strumento per poter parlare appunto e dare il messaggio, però è chiaro che siamo un servizio e dobbiamo dire in sommi capi quello che è successo, tu hai fatto questo viaggio, tua mamma dice ti accompagno, per te era un momento molto particolare, partite e tu tieni molto a quel viaggio per tutta una serie di motivi e intimi e interiori che poi naturalmente nel libro dici noi naturalmente non lo diremo, ma vi affidate a una guida tra virgolette anche un po' così approssimativa, non professionale del tutto e succede che avete un incidente, da lì parte tutta una serie di problematiche legate anche all'aspetto sanitario, all'aspetto emotivo e naturalmente siete dall'altra parte del mondo con una cultura che tutto sommato può essere molto diversa dalla nostra e vi scontrate con delle realtà, alla fine riuscite, però ok, penso che sia stato condensato? abbastanza bene, non avevo dubbi, allora intanto ogni viaggio per me rappresenta una scoperta anche quello dietro l'angolo, perché noi non ci conosciamo fin quando non ci spingiamo oltre al quotidiano questo per me era un viaggio molto importante perché attraverso questo viaggio cercavo delle risposte grazie al viaggio pensavo di tornare con più serenità o comunque con le idee più chiare in merito ad alcune cose che avrei dovuto affrontare nel momento in cui io mi sono trovata, lo racconto brevemente, la macchina è finita in un precipizio non guidavo io, io ho perso i sensi e quando mi sono risvegliata non solo non riconoscevo il contesto ma non riconoscevo me stessa, quindi l'elemento che mi è dato alla forza è stato in un attimo riconoscere una parte del mio corpo e quindi lì mi sono riconosciuta e subito dopo pensare alla figura di mia madre che non vedevo più accanto a me e da lì poi nasce il vero viaggio poi fu il percorso di questa intera notte vissuta nella Yucatan infatti potrebbe essere veramente un film d'azione, la mia vita è un film d'azione chi vorresti come personaggio, come che magari interpreta la doratella di 25 anni, chi vorresti magari? chi vorrei, è una bella domanda in realtà io sono difficile, non posso essere replicata questo posso confermare dovrebbe essere un'attrice che abbia che sia ammivalente sia come emotività che come allegria perché io commino queste due realtà, cioè riesco a, magari poi agli altri la sentenza però riesco ad avere dei momenti di estrema analisi, di profonda analisi a dei momenti assolutamente di gaudio, di leggerezza che a volte serve anche per coprire certi momenti, questo è normale senti, tornando un attimo al libro ti ripeto, io l'ho visto, l'ho sentito molto, molto sincero te l'ho anche scritto in un whatsapp e mi ha colpito questa frase che posso, penso che possa essere anche il mantra un po' di tutto quello che è il messaggio che tu vuoi dare forse avevo bisogno di morire per rivivere cosa rappresenta questo? allora io credo che ognuno di noi debba sfiorare o toccare la morte dell'anima o della propria consapevolezza per riscoprirsi, ritrovarsi e rimettersi in discussione per quello che mi riguarda sono quelli i momenti in cui ci si pone le domande le classiche domande, chi sono, cosa voglio, dove voglio andare, mi devo fermare e da lì in poi, quindi da questa morte emotiva, chiamiamola così costruire il proprio percorso anche se probabilmente il proprio percorso è segnato però ognuno di noi può mettere dei tasselli in più affinché la linea poi sia sempre più corretta diciamo, univoca un po' forse anche diciamo l'esperienza del momento che ti permette comunque di cercare di essere determinata a capire un po' quale può essere il modo per uscire non parlo soltanto di questo episodio ma in generale anche poi l'esperienza vuol dire che ti fortifichi sempre di più per poter andare avanti sì, io ho anche imparato ad accettarmi grazie a questo io ho fatto tre corsi di psicoterapia esatto, poi è un viaggio in Messico ognuno fa quello che fa ognuno spende i soldi per me, io credo esatto comunque sia, io ritengo che ad esempio poc'anzi c'era un'immagine, non so se in regia può essere mandata nuovamente l'immagine di Cicinizza in questa foto siamo io e quest'autista conosciuto proprio lì a Plei del Carmen non era una guida ufficiale che ci condusse, Cicinizza che è proprio una città meravigliosa da visitare un sito archeologico famosissima in tutto il mondo che ha un'importanza cosmica di magia, di spiritualità io sono riuscita a salire sin su la piramide, adesso non si può più salire e lì ecco io vedevo le immagini ma sono abbastanza pericolose sì, infatti non si può più salire perché appunto alcune persone poi hanno perso la vita ecco, diciamo che si avverte Cicinizza, mia madre nello specifico non ha amato chiamiamola escursione perché avvertiva appunto un'energia pesante, negativa non riusciva a liberarsi di alcune sensazioni beh, io nasco cor felice quindi ero contenta di essere all'estero non potevo mai immaginare di andare incontro da lì a breve da lì a questo scatto al baratro anche perché tu eri felice di aver preso la tua Suzuki Sì, era il mio sogno è tutto 53 anni è ancora questo sogno però mi rifiuto di assecondarlo non basta Suzuki basta senti nel libro c'è un momento in cui tu comunque fai i conti un po' con la realtà in quel momento cioè in quel precisistante cioè un po' la tua disperazione è quasi l'indifferenza quasi il fastidio delle persone che incontravate per chiedere aiuto soltanto una cosa poteva aprire tra virgolette i loro cuori i soldi Sì allora io questo è un dettaglio che poi diventa in realtà il perno di tutto nei paesi poveri ovviamente si dà importanza si dà comunque importanza ai soldi ma nei paesi poveri anche un dollaro 5 dollari e assumo totalmente un altro significato a seguito dell'incidente io poi ho scoperto che le leggi in Messico sono differenti dalle nostre mentre noi qua abbiamo alcune leggi che tutelano assolutamente chi si mette su strada anzi che ben venga che ci sono sempre leggi più restrittive in realtà in Messico se tu assisti ad un incidente e quindi soccorri qualcuno che ha avuto un incidente in realtà devi dimostrare che non ne sei la causa e quindi ecco poi spiegato dopo ma il perché la gente si passava ma non si fermava nessuno nessuno raccoglieva questa patata bollente in realtà i soldi in quel contesto il cash quindi il contante in quel contesto ci ha salvate unitamente alla forza di non disperarsi io ho riconosciuto in me ho trovato in me ho ritrovato è uscita fuori una forza vitale pari all'eruzione di un vulcano una forza vitale che io ringrazio è che io ti amo ogni volta sono in difficoltà la mia mente ritorna a quei momenti e dico dona vai ce l'hai fatta ce la rifarai la cosa che mi ha colpito è che tu hai parlato appunto del denaro no dei dollar e tu sai io ho fatto un viaggio da qualche tempo e in Argentina gli europei sono chiamati dollars dollari e quindi secondo te è un problema legato alla povertà o un problema legato alla cultura anche latinoamericana e allora non è legato diciamo le risposte sono tutte e due valide perché è legato sia alla povertà che alla loro cultura ma proprio a causa della povertà quindi non solo nell'americatina ma nel mondo questi sono i bimbi Maya e tra l'altro non eravamo qui in un villaggio turistico eravamo proprio nel cuore dello Yucatan e questi bambini erano spaventati dalla nostra figura perché il percorso che stavamo facendo non era quello canonico che fanno gli autobus turistici perché io decisi proprio di fare questo viaggio in maniera molto più vera e vero è stato e quindi ti stavo dicendo tutti i paesi poveri comunque hanno un rapporto col denaro sicuramente diverso dal nostro anche se l'Occidente probabilmente sta contaminando negativamente anche alcune culture che hanno perso il loro fascino guarda sembra in questo momento l'inquadratura grazie a Gaetano e ai ragazzi e a Gianluigi sembra che tu stia attorniata in questo momento dai bambini ma io probabilmente sono ancora lì ecco nel senso che non ho mai non ho mai dimenticato né l'odore dei tropici né il caldo né il sapore del cibo né la gentilezza di chi poi alla fine è riuscito a salvarmi sì ma infatti questa è un'altra domanda che ti volevo fare tu poi sei tornata però altre due volte per cercare di capire un po' quello che era successo e l'altra domanda che mi è venuta appunto parlando delle persone tu poi hai trovato diciamo chiamiamolo così un angelo custode alla fine che era colui che con lei che ne aveva dovuto sì ma anche delle persone italiane che vivono lì non sono state molto sì perché le persone italiane che vivono lì purtroppo vivono in un contesto difficile per loro proprio perché appunto le abitudini politiche o comunque burocratiche sono totalmente differenti la spavalderia dell'italiano lì vale ben poco anzi è dannosa quindi tu quando eri disperata e cercavi con orgoglio di poter portare avanti le tue le tue dimostranze io salvo esatto che poi per inciso il medico che mi fasciò sbagliò la fasciatura in Italia allora dovevi dire scusi torno di nuovo anche perché poi tu trovasti appunto quel medico che fu anche molto bravo per il medico mi addormentò o comunque l'intervento che ebbi fu fatto grazie ad una nina nanna lui mi addormentò cantandomi la nina nanna e io ricordo gli occhi di questo dottore il sorriso e il ricordo più dolce che ho è di questa ragazza che poi poi insomma mi leggere del libro comunque questa ragazza che mi portò finalmente in ospedale dopo una notte intera lì con le trecce finta un angelo tipo poco ontas questa figura angelica e dopo tanto dolore dopo tanta sofferenza dopo tante lame anche fisiche non solo emotive questi due sguardi furono non solo una panacea ma furono proprio la speranza e la speranza che io ripongo sugli esseri umani che continuo ad avere anche perché tu poi avevi visto che avevano curato tua mamma e quindi ti eri più tranquillizzata anche perché tua mamma per un periodo di tempo non ha avuto il momento di lucida non aveva neanche la parola sì allora il libro sicuramente è da leggere perché tu l'hai letto quindi sai bene che ha un susseguirsi di eventi tali che poi tu dici ma non può ancora ma non può essere è una grande esperienza è stata una grande esperienza io sono ritornata lì altre due volte serena cercavo questa persona che appunto poi non trovai mai più però ci ritornerei domani adesso io amo viaggiare amo la gente amo credere nella gente quando si parla di cattiveria che il mondo si è indurito ci siamo induriti tutti quindi iniziamo il mio punto di vista iniziamo a diventare più morbidi più malleabili poi può darsi che la persona che abbiamo di fronte a sua volta ritrovi questa serietà c'era un detto un meme qualcosa del genere non attaccare chi è di fronte a te perché non sai la lotta che sta vivendo ogni giorno tante volte sì ognuno di noi riceve giudichiamo anche spesso in maniera superficiale e immediata senti una cosa ma quando tu tornasti poi da perché questo nel libro tra virgolette non diciamo abbastanza sfumato ma quando tu tornasti quale fu la prima la prima sensazione la prima emozione che avresti allora io tornai questo volo fu infinito quando arrivai all'aeroporto di Catania l'intero aeroporto era una festa io trovai persone che non pensavo avessero saputo di questo incidente persone con giocattoli bambole fiori fu una vera festa e io tornai e ritrovai la realtà la mia realtà e ho detto ma allora ho attraversato veramente l'inferno no? dei sigironi danteschi e sono rientrata dove sono stata? come se non fosse stato per le rotture fisiche che avevo probabilmente non lo so sarebbe stato il frutto di un peyote sempre come un genere no? magari con un fumo particolare esatto questa fu una grande una grande gioia anche se poi ho dovuto imparare a gestire il mio fisico per insomma i limiti che aveva dettati appunto dagli infortuni l'abbiamo visto già dalla fotografia allora parliamo un attimo di penso che sia poi lo scopo ultimo cioè tu hai secondo me quello che io ho sentito mentre leggevo il libro che non era tanto il racconto di una storia ma era quanto il messaggio che poi alla fine volevi mandare so che tu hai dedicato questo libro ai tuoi figli e quindi ecco alla fine di tutto qual è lo scopo di questo libro e io spero che i miei figli possano imparare da me a cercare interiormente questa forza io dedico il libro a loro io sono diventata mamma da grande e tante volte perdo il passo no? perché ovviamente i loro ritmi sono diversi io probabilmente ho un'educazione un po' più posso tranquillizzarti io sono diventato papà molto giovane ed è la stessa cosa esatto comunque io vorrei che loro non dimenticassero mai le loro origini e nelle loro origini ovviamente c'è parte della mia emotività e la cosa più bella perché ognuno di noi ha mille difetti io forse ne avrò mille e cinque mille e sei duemila dieci mila però vorrei che prendessero da me questa forza tu poi già lo facevi già eri nel settore però poi il tuo tra vivette lavoro uno dei tanti che tu fai è quello appunto di lavorare nel mondo del turismo sì ecco questa esperienza quanto ti ha cambiato nel momento in cui stai organizzando stai colloquiando con un tuo cliente io sono diventata protettiva lo so mommina sono diventata una mommina lo so sono diventata protettiva amo condurre il cliente già sul posto da Catania cioè io devo dettagliare la destinazione nel bene e nel male devo essere cruda vera lui deve avere la consapevolezza della scelta che ha fatto e comunque continuo a seguirlo cioè fin quando non rientra io sono con lui probabilmente è una fragilità cioè magari non tutti i clienti hanno questa necessità è una mia necessità quella di stargli accanto però è apprezzata perché non sono cioè insomma il mondo purtroppo non è quello che riportano i cataloghi o i social o no questi improvvisati blogger dei viaggi il mondo è ben altro il mondo non è solo questa meraviglia che ti propongono e quindi è giusto che se tu hai la conoscenza per poterlo fare porti il cliente in una strada che sia quella idonea certo cioè con la capacità di divertirsi con prudenza con prudenza soprattutto deve essere io dico sempre rispetta le leggi le regole del posto in cui ti trovi non pensare che quello che per te è normale venga fatto in Italia sia normale nella località in cui ti trovi perché non è così questa è un'ottima riflessione che nonostante tutto spesso non facciamo noi stiamo arrivando proprio alla fine purtroppo noi abbiamo mezz'oretta ma che secondo me deve essere molto intensa ogni volta tu ti ripeto noi ci conosciamo e so che chiami mammina la mia mammina la tua mammina che è identica a te però è piccolina però è ecco dopo questa esperienza qual è stato cioè tu hai avuto un maggior senso di protezione o è stato il contrario cosa è successo no vabbè la protezione con mia madre è reciproca è coinvolgente ed avvolgente la forza che io mi ritrovo sicuramente l'ho imparata da lei lei riesce a trasmetterla ci sono alcuni momenti della mia vita in cui io ben chiaro in mente l'immagine in cui io magari ero particolarmente destabilizzato giù e lei riusciva in un batter baleno riusciva a risvegliarmi a destarmi e a farmi ritrovare questa forza quindi comunque sì il rapporto è uguale non è mai cambiato è uguale a quando io da piccola giocavo con lei con i pulcini non cambia cambia probabilmente la stanchezza di noi adulti cambia il tempo che non può essere sempre più lo stesso da dedicare o ai me è molto bello quello che hai detto cioè nel senso che questo cambiamento dell'affetto magari cambiano le modalità ma poi no posso lamentare posso lamentare esattamente no questo è vero lo sento anch'io senti allora a me è piaciuta questa discussione più che altro perché appunto il libro è stato uno strumento per poter diciamo parlare un po' di noi stessi e francamente anche di dare oltre che il messaggio ma di esprimere chi siamo e questa è la cosa secondo me più importante mi sono messa un po' a nudo sì sì ma l'hai fatto con allora lo dico molto cioè ti ripeto da qui passano ci sono passati tanti scrittori prima opera o anche veramente persone scrittori che avevano già pubblicato tantissimo secondo me la cosa bella è quando tu parli con una persona che deve essere quella proprio del metterti a nudo cioè cercare in un libro non soltanto il racconto ma quello che vuole essere veramente e quindi e non è facile non è facile né esprimerlo né coglierlo quindi io da lettore e chi invece da scrittore non è sempre facile però il libro naturalmente deve essere letto e per essere letto deve essere comprato e per essere comprato dobbiamo sapere la presentazione ufficiale sarà l'11 maggio alle 16.30 al Palazzo della Cultura a Catania il libro rientra appunto nel mese dei libri di maggio e io vi aspetto in realtà io sono felice già di averlo scritto e di aspettare le persone e questa è la mia soddisfazione più grande cioè vedere anche la copertina del libro ed essermi messa di aver riempito queste pagine di questa storia che comunque resterà certo comunque resterà mi rende felice e mi piace anche ricordare che appunto tu chiacchiererai nella presentazione con Lorena Dolci che è una nostra collega che anche lei è passata da qui col suo libro leggerà leggerà alcune parti del testo Carmela Santillic esatto esatto quindi c'è tutto al femminile qualcosa che anche la postfazione è fatta da Roberta Giuffrida che è una direttrice d'orchestra jazz catanese che vive a Palermo quindi siamo quattro donne con la nostra porta e io che cosa c'entro qui vado via comunque e poi naturalmente verrà appunto siccome è al greditore lo distribuirà naturalmente tra le librerie e poi ci sarà nelle si potrà ordinare Donatella io ti ringrazio tanto per noi è stato veramente un piacere sì sicuramente allora l'11 maggio alle ore 16.30 a Palermo della Cultura Catania per poter Sala Teatro Sala Teatro va bene e non sbagliate giorno come ha fatto qualcuno è sottoscritto e allora grazie ancora grazie a voi noi anche stasera diciamo così è finita ma sicuramente ci lascia sempre quella la curiosità di leggere ancora e di approfondire un po' tutte le tematiche posso dirvi soltanto grazie perché Donatella Donatella Turillo col suo libro Mamita sta bene al greditore è stata veramente una bellissima ospite io posso soltanto dirvi a questo punto grazie di tutto ci vediamo settimana prossima e per ora buona vita ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.